Eh, a fare spese, in giro, eh, lo sai che non dipende da me, devo chiedere, aspetta amore, aspetta, capo, posso uscire due ore prima che mia moglie vuole andare in giro con me a fare spese? Ma vi rendete conto? È giornata come quella di oggi, cioè non se ne parla nemmeno. Amore, sentito? Non vuole, beh, ciao, 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 ciao. E vai? Capo, grazie, lo sapevo che non mi lasciavi nei casini. Alaborare, alaborare, la, 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 la Grazie a tutti.